quello Dice Loro facciano sta cosa qui però non sono consapevoli ed è quello che mi sembra che ha fatto anche accessorizzit R 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 Ropa di computer Ropa da sonare Ma non sonare con i fra R 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 Chi ama Marco non lo segue nel discorso Vendere pesce alla fine del corso Corsi e ricorsi della storia In pista sulla dance floor della tua memoria Queste Circump R R R Grandia... Grandia... Grandia.. Grandia... Gl peur de 15uts... Gr Sans... Qu Chat! Cai Halo 5, 1973... Parti, fa parti che fai poi non torni Le parti le leggi e le guard i distratto Appena del pozo accompagni i tuoi giorni Ti risvegli con Stratto Watergate Panorama Weekend Club La vodka che ti ferma Troppo lucido, troppi maschi No, non puoi entrare No, non puoi entrare No, 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 no Non sono italiano No, 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 no Ma non sono vestito strano No, 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 no Questo è Fabio Ergaio No, 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 no Ora suono da solo No, 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 no Non unisco a Bolzano No, 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 no Ora suono da solo No, 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 no Ora suono da solo Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti